Scontro fra utilitarie al km 16 e 900 circa dalla statale 417 Catania Gela in territorio di Caltagirone. A scontrarsi in prossimità di una semicurva una Ford Fiesta e un Opel Cadet. Il bilancio è di due feriti che sono stati entrambi soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Gravina di Caltagirone. La dinamica del sinistro è al baglio dei carabinieri nel nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone che stanno compiendo i rilievi del caso. Sia nella Ford sia nell'Opel non c'erano altri passeggeri. A bordo di una delle due vetture il conducente è un anziano ottantenne. A seguito dell'impatto l'Opel che proveniente da Caltagirone proseguiva in direzione Catania ha finito la sua corsa in un terreno adiacente l'area di sosta in cui si erge un'edicola votiva. L'altra vettura invece è rimasta quasi al centro della carreggiata. Non ci sono al momento aggiornamenti sul quadro clinico dei due feriti. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale di Caltagirone e il personale dell'ANAS che provvederà alla bonifica della sede stradale per rimuovere gli oli e i liquidi esausi riversatisi sulla carreggiata.